Già da oggi e fino al 25 marzo entra in vigore il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che restringe ulteriormente le misure precedenti e prevede la chiusura di ulteriori attività e servizi non essenziali. Da oggi infatti in tutta Italia stop anche a bar, pub e ristoranti e restano attivi idraulici, meccanici, benzinai, pompe funebri, tappaccai ed edicole. Anche gli artigiani resteranno aperti, sono considerati servizi essenziali. Chiudono invece parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa. Restano garantiti servizi pubblici essenziali, tra cui trasporti di servizi di pubblica utilità. Bisognerà aspettare un paio di settimane per avere un primo riscontro effettivo di queste misure, ha spiegato in conferenza stampa ieri sera intorno alle 21.40 circa su tutte le reti. Non sarà necessario dunque nessuna corsa per acquistare il cibo, in quanto i negozi di alimentari rimarranno aperti, ha spiegato il capo del governo. Resta consentita e privilegiata la consegna a domicilio. Per le attività produttive va incentivata il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie ed i permessi. Le fabbriche resteranno aperte ma con misure di sicurezza. Garantite anche le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività. Chiuderanno i servizi di mensa, che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Restano chiusi i reparti aziendali, non indispensabili per la produzione. Le industrie e le fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizioni che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Si incentiva la regolazione di turni di lavoro, ferie anticipate e chiusura dei reparti non indispensabili. Se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa nient'altro improbabile, ha puntualizzato Conte, non significa che dovremmo affrettarci a varare nuove misure. Non dovremmo fare una corsa cieca verso il baratro, dovremmo essere lucidi e soprattutto responsabili.